Prima si paventava un'apertura, poi le Avanz si sono fatte sempre meno velate, ormai è palese. Il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, apre la Lega e si dice pronto ad aiutare Salvini per una vittoria al sud. Il leader della Lega però deve trovare l'orgoglio, la forza e la risolutezza, ha detto Musumeci, per rompere questo patto assolutamente anomalo e fuori da ogni illogica politica con il Movimento 5 Stelle, andando al voto subito. La politica non può basarsi solo su un accordo di programma, continua il governatore, né si governa con un contratto a prescindere dalle affinità culturali. Secondo un'intervista fatta alla stampa, Musumeci sostiene che Salvini non apre la crisi perché non crede che esista ancora sul piano numerico l'alternativa per un centrodestra organico e potrebbe avere anche ragione, spiega il presidente della regione, soprattutto se guarda al sud. Ed è proprio qui che Musumeci, leader e fondatore del Movimento Diventerà Bellissima, offre la sua mano a una collaborazione con la Lega per portarla avanti sulla nostra terra. Se in un progetto nazionale dovesse esserci bisogno di un movimento per aggregare consensi moderati sul territorio, ha scandito il governatore della Sicilia, noi siamo pronti. Grazie.